Un commento signor Emigio E' l'alba Di una lunga giornata Di pesca Con la speranza Di farci una grande vigilia di Natale Mua Temperatura 2 gradi Così niente Passare il caffè, l'alba promette bene C'è manco solo un spiccolone Ma mi sa che mi piace un congelatore C'è uno che ci segue, chi è? Chi è? Vedi chi è quello che ci segue Che bello Sai lo fritto che ci prendiamo? E' l'alba Ciao ciao Capitano, come la vede? Buona, buona Purtroppo ci dobbiamo accontentare Di questo misero posto Godetevelo A dopo con un gran filmato C'è uno che mi piace un congelatore Purtroppo ci dobbiamo accontentare Il protagonista Il protagonista E' un bel piano Gli atto Di questo misero Il protagonista La francesco Ci sarà E canta le tue azioni E vorrà sta camera Pensa, pensa al tuo bambino Al saluto che ti mandò A tua moglie sveglia di buon mattino Con Dio di te parlò Con Dio di te parlò Ciao Claudio! 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 Ciao Claudio!